Roberto Esposito. Roberto è un pizzaiolo che sta in casa perché la pizzeria è a Napoli. Allora, dov'è la pizzeria e come si chiama? La pizzeria si chiama Pizzas Pizzi e ci troviamo a Napoli in via Amerigo Vespucci 138. Io la pizzeria la conosco, ho fatto finta di non conoscerla, lui giustamente ha detto come mai non la conosco, la conosco bene, è una bella pizzeria ha una grande insegna, grande, 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 si vede da lontano e la pizza è molto buona, devo dire la verità, perché ci sono state anche a mangiare, ma loro non lo sanno quindi perché faccio anche qualche visita così di nascosto. Allora, tu utilizzi che farina? Io utilizzo la farina varvello e utilizzo sia la 48 che la 72 ore e cerco di mescolarla al 50 per cento facendo poi una biga a 48 ore, 100 per cento biga utilizziamo come preferito. Sì, 100 per cento. Chiaramente abbiamo detto che utilizzi varvello e qui abbiamo mister varvello in persona, cioè Filippo Varvello che praticamente qui sta venendo praticamente tutto l'evolversi di questa manifestazione e chiaramente rimane contento quando c'è qualcuno che utilizza praticamente Varvello. Allora Filippo, ancora un'altra pizzeria che utilizza il vostro prodotto, ancora un'altra pizzeria che sa esaltare una farina molto particolare. Come ho detto prima, li ho definiti degli artisti perché non possiamo che definirli tali visto quello che è l'aspetto estetico ma poi anche la bontà del prodotto e come ho detto prima noi non possiamo prescindere, cioè noi diamo il nostro piccolo contributo ma poi tutto dipende da loro che sono appunto coloro che sono in grado di realizzare queste prelibatezze e io rimango sorpreso e ho solo piacere poi di poterle degustare ed assaggiare. Quindi i complimenti vanno tutti a loro per quello che riescono a realizzare. Complimenti a Roberto, però questi complimenti li devi meritare. Allora praticamente mettiti a lavorare e facci questa pizza. Allora come si chiama la pizza? La pizza si chiama Peppe perché nella nostra pizzeria utilizziamo nomi di persone e la prepareremo con pomodorini gialli e rossi e pacchettelle dell'azienda Terra Viva, dopodiché provola dei Monti Lattari e olio extravergine del Frantoio Barone. All'uscita verrà completata poi con l'ardo di maialino casertano della ditta Tomaso e in realtà poi nella pizzeria ci mettiamo anche un po' di pecorino, oggi non c'era quindi lo abbiamo adattata. Non c'è problema, la vediamo subito, inizia il tuo lavoro così probabilmente noi ci gusteremo poi il risultato finale. Allora hai detto che probabilmente nella tua pizzeria tutte le pizze nella vostra pizzeria hanno un nome, però guarda caso ti sei portato Peppe e Peppe tu devi sapere che mi chiamo Giuseppe, quindi è proprio un ragazzo in gamba, subito si è preso frente il fatto di dire che l'aveva fatta per me, va bene, va bene, ci crediamo, ci crediamo. Allora, gli altri poi quali sono gli altri nomi, cioè sono legati a voi che lavorate in pizzeria o sono nomi? Sono nomi legati sia a noi che lavoriamo in pizzeria, a parenti, amici e soprattutto anche a clienti perché molto spesso capita che vengono e dicono mi fai una pizza tipo come questo cliente col pomodorino giallo, pomodorino rosso, la presentiamo, si piace, la mettiamo al menù e questa è una delle pizze che ci ha dato molte soddisfazioni. Ma questo è spettacolare questo concetto, cioè significa che se qualcuno viene e fa una pizza che a voi piace e piace agli altri? Piace principalmente ai clienti. Eh beh, allora vengono, facciamo, vengono 20 persone nella pizzeria una giornata e ognuno fa la propria pizza, tu come fai a capire che quella poi piace agli altri? Eh, diventa complicato, ci deve essere qualcuno che sceglie, ci sta qualcuno che sceglie. Eh, allora diciamo che prende quella che è una buona pizza perché poi sai certe volte si fanno dei passocchi. Eh no, 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 è normale. Comunque cercare di equilibrare. Bravissimo, quindi quando prende piace possono entrare e prende nell'ambito del vostro menù, è spettacolare. Per cercare di far sentire tutti i clienti in una famiglia, altrimenti. La grande community. Ah, bellissimo, perché con il concetto dei social è ancora più grande, no? Perché diventa bellissimo. Allora andiamo avanti. Ah, olio in cottura. Ok. Questa è una vecchia tradizione dei pizzaioli napoletani, l'olio in cottura. Oggi c'è chi accetta invece di farlo soltanto quando esce la pizza. Eccola qui, molto colorata, già di partenza. Già abbiamo tanti colori. Fate anche pizza d'asporto? Sì. Noi abbiamo anche una piccola sala interna e soprattutto una sala esterna e poi si facciamo anche, nasciamo principalmente come pizza d'asporto, poi un po' il tempo ci siamo evolvendo. Da quanto tempo c'è la pizzeria? La pizzeria ce l'abbiamo dal 1995 e io invece faccio il pizzaiolo da 5-6 anni, però effettivamente lavoro in pizzeria poi da un 10-12 più o meno. ho fatto prima la gavetta come ragazzo delle consegne, dopo ho fatto il fornaio per 5-6 anni. E poi sei stato promosso a pizzaiolo. Promosso, poi vediamo se vale questo titolo, se la pizza è buona o meno. Se sei qui sei stato promosso, robé, perché se no non ti domandavano. Eccola qua, allora, incominciamo, mettiamola in modo che possa essere vista perché qui stiamo facendo pizza show, quindi dobbiamo farla vedere. Filippo, questa varvela lo risponde proprio bene. Secondo me c'ha un'anima napoletana, ma non è che tu hai qualche parente napoletano? Può darsi, può darsi, effettivamente. Devo dire che, visti i risultati, viene da pensare questo. No, ma torno a ripetere quello che ho detto prima. Sono loro che riescono a tirar fuori il meglio e quindi, insomma, è un qualcosa che si adatta, fortunatamente, mediamente bene a qualunque tipo di pizza e di lavorazione. Però, appunto, loro ne traggono, esaltano quelle che sono le caratteristiche del prodotto. Sì, infatti noi siamo passati da una pizza con un grunge molto spinto, praticamente, così siamo passati a una pizza classica napoletana, bellissima. Grazie.